che è? sì lo so avete capito è PES 2021 ma ovviamente non è il mio MyClub perché io l'ho già cominciato e questo è fresco fresco da cominciare chi c'è arrivato? ebbene sì ragazzi in questo momento sto per spacchettare a tradimento per la prima volta su PES 2021 al buon Fabio gli sto per creare la sua rosa iniziale vi chiedo di lasciare almeno 5000 mi piace su questo video entro la prima ora dalla pubblicazione e domani vi porto immediatamente questo spacchettamento incredibile detto questo mi raccomando cliccate sulla in alto a destra oppure vi comparirà il bannerino in questo momento iscrivetevi al mio secondo canale youtube ma cliccando sempre sulla in alto a destra troverete anche il mio primo canale youtube mi raccomando iscrivetevi ad entrambi e attivate le campanelle perché quest'anno PES 2021 lo porterò su entrambi i canali tra MyClub diventa un mito e carriere allenatore preparatevi perché faremo il delirio detto questo vai col video e buona visione e allora dai ancora una volta e lo ingaggiamo regà messi 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 dall'inizio eccolo che bello nooo è bellissimo guardate che spettacolo ragazzi oh my god con la divisa dell'Iconic Moment è lui guardate no è medicina quelle per Mardegapoccia Iconic Moment è lui è il Messi tempo di tempo fa io direi di spacchettarci qualche agentino top facciamo 1 1 1 e 1 così andiamo a rinforzare la nostra squadra iniziale di conseguenza usiamo la gente vai a profilo ce lo fa vedere regà delle possibilità di pallone nero non ne parliamo neanche ma detto questo paghiamo con monete MyClub e confermiamo e vediamo che pacchetto portieri da 3 ci riserverà il gioco mi auguro un bel pallone nero per cominciare è svincolato probabilmente e non è pallone nero è pallone argentone però sicuramente da pallone bianco a pallone argentone piate l'undercu ecco è buono regà 79 mi sta a risalire il polpettone piato per cominciare è buono che ci sta di meglio ovviamente ci sta niente rafael e friedrich per cominciare piato secondo me potrebbe essere sicuramente interessante detto questo facciamo la stessa cosa con i difensori stessa identica cosa a livello di probabilità di pallone nero paghiamo con monete MyClub e confermiamo pallone nero pallone nero pallone nero 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 tanto non capiterà mai allora è campionato inglese un bel Virgil van Dijk non sarebbe male per cominciare è che da dire West Ham United Tarocchi che è Tarocchi Tarkoschi Tarkoschi 79 dai comunque oh stiamo sicuramente rinforzando si mazza che ricchi andiamo avanti andiamo avanti e vediamo che cosa accade allora Tarkoschi Konza Merlo va benissimo guarda qua qua rinforzo e non poco benissimo ok andiamo ai centrocampisti stessa cosa vai profilo togli vai paga con monete MyClub e conferma così attrezziamo diciamo sicuramente la squadra un po' più abbordabile perché tutti i palloni bianchi che è sta roba eh no è una pippetta di quelle proprio spippettini e spippettini però comunque è un argentone ragazzi miei Montillo Montillo 76 trequartistino diciamo che ma vabbè ma aspettavo qualcosa di meglio cioè e te bo e do 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 benissimo e poi il pacchetto attaccanti quindi qua raga ovviamente c'è il mondo le probabilità di pallone nero sono ridotte ridotte all'osso quindi attaccante paga con monete MyClub e conferma e preparatevi preparatevi che potrebbe essere la volta buona di vedere un pallone nero di quelli esagerated barra spisellente eh sì argentina chi è? chi è? da Lazio chi è? ah ok è Lisandro ciao Lisa come stai? è Lisandro Lopez dai oh 37 anni punta comunque 79 di overall dai quindi è saponara è sapognara è sapognara babbel guarda che roba pure babbel va benissimo ma adesso abbiamo il pool da collezione e altre due iconic moment quindi preparatevi vi faccio rivedere il profilo su tutti i palloni neri qua dove becchi 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 bene raga qua dove becchi becchi mamma mia Nedved del Piero Beckham Puyol Vieira me servirebbe Roberto Carlos me servirebbe Inza me servirebbe un po' tutto siete pronti? chi becco? non lo so però ce ne abbiamo due il primo la prima anzi la seconda iconic moment perché la prima è Messi vediamo vediamo sono veramente fomentato ed eccitato damme Beckham damme Vieira damme Puyol damme Roberto Carlos è destro è destro chi è? non capisco aspetta mazza che bella la grafica aspetta ho letto è Beckenbauer fermi tutti fermi tutti ho attappato la difesa subito Beckenbauer dai è così mamma mia che bella rega Rega Beckenbauer è veramente una belva di quelle pazzesche sono veramente felicissimo di questa spacchettata ma ne manca ancora un'altra non è finita qui usa gente lo paghiamo immediatamente e preparatevi ragazzi preparatevi perché qui ci divertiamo iconic moment ancora dai regalami una belva me ne serve uno un po' più nel reparto avanzato se è possibile è destro è destro aspetta ok calcia è una punta credo fanbuston 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 ragazzi a 24 anni ma che fa con sto dito yo yo gosciare rega pure Van Basten Beckenbauer Van Basten e Messi fermatevi andiamo a vedere la formazione molla sistema e poi ve la faccio vedere c'è roba da matti rega c'è rega roba da matti siete pronti io penso che per oggi basta così se non è scendito dei 6 giorni allora i record vabbè ce li famo ok fermi tutti questa è la squadra che sono riuscito ad attrezzarmi con il mio primo ball opening permettetemi di dire devo migliorare ovviamente l'intesa ma va bene oh piatov dani alves beckenbauer che non c'è intesa è ok tarokkischki va bene poi merkulov bene etebo etero tonali poi c'è montipo ah no è montiglio messi fanbuston e dai ryan babbel secondo me ci può assolutamente stare con una panchina di tutto rispetto io vi invito a lasciare almeno 10.000 mi piace su questo video se domani volete il secondo ball opening ma tenete d'occhio sia il primo che il secondo canale perché usciranno contenuti a manetta diventa un mito le carriere ci inventiamo spacchettamenti partite online ci inventiamo veramente il mondo di conseguenza cliccate cliccate iscrivetevi ad entrambi i canali e attivate le campanelle profili social tutto in descrizione compreso il mio profilo instagram contenuti consigliati ci vediamo alla prossima con un nuovo video ma ho cominciato veramente col botto ciao